Oggi 14 novembre 2021 sarà una data fondamentale del motociclismo per quanto riguarda la categoria MotoGP e le derivate ovviamente categorie inferiori si è fatta la storia in tutti i sensi è l'ultima gara della carriera di Valentino Rossi che si è conclusa oggi a Valencia con la decima posizione è la giornata dove viene assegnato il titolo del mondo Moto2 e i MotoGP sempre nel momento in cui si ritira Valentino Rossi da Ducati mette a segno una storica tripletta ma è successo questo nella storia della categoria ovviamente dei prototipi un racing podcast dunque molto succoso per concludere quella che è la stagione ovviamente per il Moto Mondiale e andremo ovviamente a parlare di tutti gli aspetti che hanno caratterizzato questa giornata a partire ovviamente dall'evento clou che è stata effettivamente l'ultima gara della carriera di Valentino Rossi Valentino Rossi che pound for pound disputa la miglior gara della stagione su una Yamaha SRT assolutamente non competitiva questa che vedete è l'immagine finale della gara appunto che ha visto il dottore tagliare per decimo il traguardo è stato veramente un trionfo di ringraziamento e di tributo a quello che in tutti gli effetti è una leggenda del motorsport in generale un Valentino Rossi che lascia comunque in realtà molto interessante e lo vedremo poi nei ragazzi che hanno cavalcato le categorie inferiori e anche la parte finale della MotoGP in particolare con Bagnaia che ancora una volta andrà a vincere la gara appunto della categoria regina è un Rossi che appunto ha avuto un giusto tributo perché quando smette una leggenda di questo motorsport simpatico antipatico che sia è giusto fermarsi un attimo e celebrare il campione che è io personalmente lo sapete non sono un tifoso di Rossi sono sempre stato un tifoso della Ducati ma ciò non vuol dire che non riconosca l'importanza dei Rossi che ha dato in tanti punti di vista soprattutto dal punto di vista mediatico e soprattutto per il fatto che Rossi ha avuto l'indubbia qualità di portare il motorsport diciamo a più gente magari che prima non se ne interessava facendolo passare da uno sport di nicchia a uno sport un po' più per le masse popolari Rossi ha catalizzato tantissimo l'interesse di tantissime generazioni è un pilota che ha vinto 9 titoli del mondo in tutte le classi 7 in classe regina potevano essere 8 se nel 2015 non successe quello che successe cosa che peraltro pur non essendo tifoso di Rossi mi ha fatto veramente incazzare come un drago certo è abbastanza strano o comunque particolare che Valentino Rossi disputi pound for pound la miglior gara della stagione con una Yamaha SRT assolutamente non competitiva una Yamaha clienti che veramente ha fatto fatica a trovare la strada con Morbidelli con una moto assolutamente non competitiva e con un Rossi che oggettivamente faceva poco più che delle comparsate invece a Valencia per dare una scossa per salutare al meglio nelle possibilità della moto i tifosi in generale Rossi fa una qualificazione molto oltre rispettive della moto con una decima posizione peraltro confermata in gara dunque è un tributo comunque necessario e doveroso condizionato comunque da una gara interessante per quanto Rossi di fatto non abbia demeritato anzi è una top 10 più che meritata è evidente che il ritiro di Rossi però di conseguenza va a oscurare tutto quello che di buono si è visto sia per quanto riguarda la MotoGP sia per quanto riguarda le categorie inferiori e adesso passiamo a vedere effettivamente quello che è successo perché per esempio in Moto2 c'era il titolo del mondo da assegnare e effettivamente a Valencia si è conclusa la diatriba e le ostilità tra Remy Garner e Raul Fernandez dunque salutiamo un altro evento storico perché Remy Garner il nostro nuovo campione della Moto2 ha la meglio di 4 soli punti di Raul Fernandez pilota spagnolo che a me piace veramente tantissimo Remy Garner comunque fa la storia perché diventa il secondo figlio d'arte a vincere il titolo del mondo dopo il papà la prima coppia padre e figlio a riuscirci furono appunto i Roberts con Kenny Senior e Kenny Junior e qui Wayne Garner appunto avrà anche Remy come figlio da celebrare come campione del mondo Remy Garner di fatto riscatta una carriera che era arrivata di fatto all'apice in questa stagione prima in realtà Garner era più che altro una comparsa ha fatto veramente tanta fatica ad emergere dopo anni e anni nel Moto Mondiale in particolare in categoria Moto2 è arrivato in Red Bull KTMI una squadra assolutamente competitiva l'obiettivo dichiarato era assolutamente quello di vincere evidentemente e ci è riuscito però con tantissimi patemi d'animo perché di fronte si è trovato un Raul Fernandez veramente sontuoso che sarà a mio modo di vedere uno dei talenti più cristallini della futura MotoGP Remy Garner fa una gara veramente di conserva a essere buoni gli è venuto in realtà un braccio corto come un T-Rex al pilota australiano va detto che gli bastava finire nei primi treci con Fernandez vincitore per aggiudicarsi il titolo del mondo ed effettivamente così è stato vince il rookie dell'anno per dispersione Raul Fernandez un pilota veramente spaziale di cui sentiremo parlare veramente tanto nel futuro ma appunto Remy Garner vince il titolo del mondo Moto2 in una stagione comunque dove è stato effettivamente un pilota costante abbiamo visto come in questi anni essere un pilota costante in Moto2 e in generale nei campionati effettivamente paga i dividendi soltanto 1-0 ha fatto Garner quello a Austin, Texas dove sembrava effettivamente cedere il passo a Raul Fernandez che poi però la butta via a Misano 2 la pietra diciamo tombale sul campionato è stata la vittoria di Portimao oltre che evidentemente la gara di Misano 2 dove Garner ha fatto punti nella gara peggiore dell'anno e qui si è costruito il vantaggio necessario per arrivare di giustezza allo sprint del titolo del mondo nulla toglie comunque alla stagione spaziale di Garner e Fernandez soprattutto Fernandez che comunque anche lui fa la storia perché vince 8 gare sulle 18 disputate e batte il record di Moto2 di Marc Marquez di certo non uno a caso e appunto per Fernandez e Garner hanno fatto una stagione di altissimi livelli nei vari titoli del mondo che ci sono assegnati nessuno di loro ha fatto più punti evidentemente degli altri due di conseguenza vuol dire che Fernandez e Garner stesso team erano veramente in una categoria superiore a tutti gli altri piloti il terzo classificato nel mondiale è Marco Bezzicchi che in realtà la gara non avrebbe nemmeno corsa perché si è steso fa una ottima figura invece Fabio Di Gian Antonio sempre rimanendo a casa nostra con una seconda posizione di un certo livello e terzo Augusto Fernandez pilota che anche lui sarà tenuto d'occhio per l'anno prossimo perché prenderà il posto proprio di Garner in Red Bull KTMA io a fianco di quel Pedro Acosta che peraltro ricordo è campione mondiale di categoria Moto3 passando invece alla MotoGP parlavamo di una cosa che si è oscurata abbiamo parlato del titolo del mondo di Remy Garner dal ritiro di Valentino Rossi il ritiro di Valentino Rossi in realtà ha oscurato una cosa storica per quanto riguarda la MotoGP e da tifoso Ducati io sono veramente orgoglioso di poterla commentare la prima storica tripletta della Ducati MotoGP è accaduta esattamente oggi il 14 di novembre con Francesco Bagnaia vincitore ancora una volta il pilota più in forma dell'ultimo terzo di stagione peccato veramente che abbia ingannato forse troppo tardi altrimenti il mondiale probabilmente non sarebbe stato probabilmente a pannaggio di Quartaro che comunque nella prima partizione era il pilota da battere ma comunque Bagnaia vince la quarta gara nelle ultime sei e veramente si canita di prepotenza come uno dei piloti da battere l'anno prossimo secondo è Jorge Martin rookie dell'anno della MotoGP un pilota che su una Ducati semi-ufficiale perché ricordiamo che anche Pramac corre con la Ducati di quest'anno ha già vinto una gara ha fatto tanti po' di ripetizioni insomma anche lui gran bel pilota e terzo Jack Miller che corona il trionfo della Ducati che veramente non aveva mai fatto delle triplette fino ad ora né in Superbike né in MotoGP sono state fatte entrambe quest'anno sul bagnato ricordiamo la gara leggendaria in Superbike in questa stagione se non sbaglio appunto a Barcellona mentre qui a Valencia sempre in Spagna triplette una categoria dei prototipi dove effettivamente anni e anni fa era impensabile che soprattutto questa Ducati nuova versione potesse fare assolutamente il bello e il cattivo tempo ci fu una doppietta incredibile della Ducati fu quella con Troy Baylis primo e Lloris Capirosi secondo ma una tripletta effettivamente a Valencia non si era mai vista per un mondiale che comunque era già assegnato perché Fabio Quartelaro vince con 278 punti in totale Bagnaia ne conquista 252 ma il ruolo di marcia veramente impressionante da Aragon a Valencia 4 vinte e un podio peccato per il ritiro a Misono 2 che di fatto ha chiuso la porta alle speranze mondiali di Bagnaia un Bagnaia che però appunto abbiamo detto è il pilota assolutamente più in forma di questa parte finale di MotoGP a discapito di un Fabio Quartelaro che dopo Ass non ne ha vinta mezza in ogni caso è lui il nostro campione del mondo del MotoGP come abbiamo già detto nell'ultimo racing podcast della MotoGP Bagnaia comunque conferma una cosa la Ducati è senza ombra di dubbio il pacchetto migliore in generale del Moto Mondiale ha un sacco di moto a disposizione e soprattutto ha un core di piloti ufficiali veramente di livello perché sia il team ufficiale sia il team Prama che di fatto è un semi ufficiale evidentemente ha tutte le carte in regola per puntare a qualcosa di grosso e oggi l'abbiamo visto con una straordinaria tripletta in quel di Valencia con un Bagnaia che ripeto sarà uno degli uomini da tenere d'occhio per l'anno prossimo e vedremo se sarà Quartarrow il suo contender per comunque un campione del mondo regnante di categoria che anche lui oggi ha fatto una gara veramente in colore dimostrando in realtà una cosa che dico da tempo la Yamaha non è per nulla la moto migliore e lo abbiamo visto anche oggi con appunto Quartarrow quinto con Morbidelli che lui finisce undicesimo di Rossi abbiamo già detto finisce decimo e Andrea Dovizioso con l'alta Yamaha SRD che anche lui finisce a punti ma nelle zone evidentemente basse segno che comunque il francese ha guidato sopra i problemi di questa Yamaha e ha capitalizzato alla grande una prima partizione dove non c'era un vero e proprio contender Bagnaia è venuto fuori probabilmente troppo tardi ma comunque a me da tifo ducatista sono contento di vedere finalmente una ducati competitiva praticamente su tutte le piste di vedere un pilota e un pacchetto che può giocarsela veramente alla grande quindi io nutro sinceramente forti speranze in Bagnaia per quanto riguarda il mondiale dell'anno prossimo e staremo a vedere appunto se la mia previsione sarà corretta di sicuro ci si aspetta un ritorno importante di Quartarò perché la Yamaha dovrà assolutamente migliorare altrimenti a difesa del titolo del mondo ce la possiamo ampiamente sognare bisogna vedere poi cosa farà la Honda l'anno prossimo con Mark Marquez che oggi peraltro non c'era a causa appunto la malattia che lui ha colpito Mark Marquez ricordiamo soffre di diplopia è comunque una giornata appunto che ha fatto la storia perché appunto abbiamo la prima tripletta Ducati della storia della MotoGP abbiamo il nuovo rookie dell'anno che è Jorge Martin che non poteva che essere lui e anche lui è un pilota che sarà da tenere d'occhio perché è uno che al primo anno salta quattro gare e fa quattro podi di cui una vittoria è veramente uno che i crismi del più da tanto intuoso ce l'ha e ricordiamo che Martin è un campione mondiale in carica di Moto3 di conseguenza non è proprio l'ultimo degli arrivati peccato per il mio pupillo Enea Bastelini che per pochi punti 9 perde il titolo di rookie dell'anno ma anche Enea è un pilota assolutamente da tenere d'occhio e questo è evidentemente il sindomo di quello che sarà il dopo Valentino Rossi ed è un altro argomento che va trattato perché è vero si ritira la leggenda del motorsport moderno Valentino Rossi per quanto riguarda la MotoGP ma è altrettanto vero che il manipolo diciamo di piloti italiani per quanto riguarda quantomeno la MotoGP è un manipolo di piloti di assoluto talento molti sono appunto dell'academy vedi per esempio Bagnani Morbidelli che hanno già capitalizzato Bagnani l'abbiamo visto con dei titoli di Moto2 20 con questa parte di stagione fondamentale per provare a rincorrere Fabio Quartarò anche Morbidelli ha già dimostrato di essere un bel pilota di MotoGP e ci sono anche in generale gli altri piloti e per la maggioranza sono piloti del nostro paese e Enea Bastelini è uno di questi su cui si può puntare l'anno prossimo Bastelini andrà in team Gresini che ritorna in MotoGP rimanendo sempre con Ducati ma anche lui pur non essendo un pilota della VR46 Academy è veramente un cavallo di battaglia molto interessante magari non per l'anno prossimo ma comunque per i prossimi anni per la MotoGP diciamo siamo messi abbastanza bene devo essere sincero per le categorie intermedie e inferiori in realtà un pochino meno evidentemente lì manca il ricambio generazionale che però vedremo che cosa porterà nei prossimi anni evidentemente comunque per come la si vede è stata fatta la storia in ogni modo perché appunto oltre il ritiro di Valentino Rossi che obiettivamente va a monopolizzare gran parte degli argomenti ci sono tantissimi aspetti di cui non si è parlato abbastanza che vanno tenuti d'occhio Ducati ha fatto tripletta e deve mantenere questo standard per vincere finalmente il titolo del mondo che manca nei tempi di Stoner tanto per intenderci per quanto riguarda obiettivamente la categoria dei prototipi gli altri italiani possono comunque riportare dopo l'epopea di Valentino Rossi un titolo a casa e hanno le caratteristiche e le potenzialità per farlo e in ogni caso le altre moto dovranno evidentemente rincorrere ai Ducati e vedere effettivamente ci sarà un duello futuro tra Bagnaia Quartaloro di nuovo o Marquez se ritorna al 100% con Bagnaia se tornano magari le Suzuki che hanno fatto un anno semidisastroso ma di quello ne parleremo obiettivamente anche nel Pagione Promossi e Bocciati che io vi ricordo uscirà verosimilmente venerdì prossimo quindi anche qui state sintonizzati è comunque veramente una giornata che può effettivamente ricordare tanti tanti aspetti per quelli che hanno seguito Rossi fin da prima di me evidentemente è ovvio che si chiuda un'era ed è l'era moderna che di fatto continua anche se probabilmente è possibile ipotizzare che ci sarà un prima di Rossi e dopo di Rossi logicamente però la moto ciclismo e in generale il moto ciclismo va avanti e dunque attenzione a tutti questi piloti che vi ho indicato perché sono piloti che ci faranno ampiamente divertire anche dopo il ritiro di Valentino Rossi c'è un altro ritiro in realtà dalla MotoGP da dover salutare che è quello di Danilo Petrucci che anche lui era all'ultima gara della carriera in MotoGP rimarrà con KTM il pilota Umbro ma andrà a fare la parecita car sempre con KTM quindi impegno diciamo non propriamente leggerissimo altri piloti che se ne vanno se ne va Iker Lecuona che andrà in Superbike nel team Honda Ufficiale e di quello ne parleremo quando presenteremo la stagione l'anno prossimo e in generale abbiamo un Moto Mondiale per quanto riguarda la MotoGP già concluso da tempo perché appunto Quartarò ha vinto il Mondiale da due gare Portimao io sinceramente non l'ho vista e qui abbiamo concluso come tutti gli anni il Racing Podcast della MotoGP a Valenza la concludiamo però anche con la Moto3 che anche qui aveva pochissimo da dire visto che sappiamo già che il titolo del mondo era già stato acquisito da Pedro Acosta sempre a Portimao in una gara dove c'è stato peraltro un episodio molto molto controverso con Darren Binder che anche lui andrà in MotoGP in modo abbastanza discutibile in modo di vedere che di fatto stende Foggia non è vero che Darren Binder viene squalificato Foggia in realtà sfugherà tutto questo rancore del Mondiale perso nell'ultimo giro proprio contro Acosta una Acosta che viene steso da Foggia con una manovra onestamente rivedibile e da penalizzazione anche se evidentemente per i commentatori di Sky era un altro discorso fatto sta che appunto in una gara che non aveva niente da dire celebriamo la vittoria di Xavi Artigas altro pilota che l'anno prossimo in Moto3 potrebbe dire assolutamente la sua prima vittoria della carriera per il rookie con il numero 43 un pilota che peraltro non è così ostico rispetto a Valencia perché ricordiamo che Xavi Artigas esordì nel 2019 e fece podio e qui alla seconda gara della vita a Valencia vince in volata davanti a Sergio Garcia che per lunghi tratti è stato il contender principale di Acosta anche se in generale il mondiale Moto3 era di bassissimo livello perché appunto oltre a Costa non c'era praticamente nessun altro che poteva contenere il titolo del mondo si si è svegliato Foggia ma anche lui probabilmente abbastanza tardi terza posizione per Jaume Masia che probabilmente è una delle più grosse delusioni del mondiale di questa stagione lui che doveva vincere e come dire far imparare ad Acosta a vedere come si vince evidentemente ha subito le sberle della sua campagna di squadra e vince soltanto una gara quella del Qatar per un comunque podio che per la Spagna è di tributi assoluti ovviamente è il podio tutto spagnolo in ogni caso si conclude qui la stagione del Moto Mondiale 2021 con tre campioni del mondo su tre categorie abbiamo un francese Fabio Quartarò in MotoGP un australiano Remy Garner in Moto2 e uno spagnolo Pedro Acosta in Moto3 è la giornata che segna come vediamo il ritiro di Valentino Rossi che comunque viene salutato da un giusto e meritato trionfo perché ripeto i campioni si devono riconoscere come Italia a prescindere se si è tifosi oppure no io non sono un tifoso di Rossi ma è comunque giusto dare il tributo al numero 46 ripeto io continuerò a seguire la MotoGP lo stesso a prescindere dal ritiro di Rossi un po' perché tifano Ducati e un po' comunque ripeto perché il masochismo va avanti in ogni caso ricordiamo che Rossi ha fatto la miglior gara della carriera pound for pound con questa moto e logicamente le AMA SRT che è una delle moto peggiori del moto mondiale 70.000 persone e passa hanno dato un onore legittimo al numero 46 che dopo 9 titoli del mondo vinti tra tutte le classi 9 e mezzo considerato che c'è quello del 2015 dice addio alle corse dopo 26 anni di più che onorata carriera è un anno strano perché appunto oltre a Valentino Rossi si ritira un'altra legenda del motorsport di cui si è parlato molto meno ma di cui è giusto dare un altro tributo fondamentale che è Antonio Cairoli anche lui 9 volte vincitore di titoli del mondo ma in categoria MXGP motocross il 2021 è un anno che segnerà evidentemente la fine di una parte di storia del motorsport ci sarà un dopo Rossi assolutamente sì e sarà già l'anno prossimo con una Ducati che può puntare al titolo del mondo soprattutto con Bagnaia ci sarà un manipolo di piloti di talento che ci farà divertire e non devono aspettare tanto perché la MotoGP partirà a marzo nella tradizionale gara di apertura del Qatar e qui concludiamo il primo e ultimo recent podcast appunto per quanto riguarda Valencia appuntamento però venerdì ci soffermeremo sulla MotoGP con il primo appuntamento dei tre previsti dei promossi e bocciati come tutte le cattorie motoristiche fatemi sapere come pensate dunque di questo recent podcast il saluto da parte di Mettutorgard ci vediamo al prossimo appuntamento con il recent podcast che sarà tra stasera o domani al massimo per quanto riguarda il post gara del GP di Formula 1 che corre appunto a Interlagos Brasile a Interlagos Brasile